I tempi sono quelli che stiamo utilizzando in questo momento, quindi agiremo in maniera veloce, ma utilizzando il tempo che è necessario per effettuare tutte le elaborazioni utili a prevedere gli effetti di queste diverse opzioni e valutare appunto il fatto che queste diverse opzioni possono certamente incidere diversamente sulla situazione dei singoli cittadini, ma avranno un effetto in termini generali sulla situazione economica e sulla finanza pubblica del nostro Paese e quindi abbiamo l'esigenza di affrontare questo tema in maniera congrua. Non c'è un problema di data delle elezioni, le nostre previsioni è arrivare molto prima alla decisione necessaria.